Buongiorno a tutti, siamo qui da Honda Redmoto, Justin Barsia è appena sbarcato alla Malpensa e è venuto a far visita all'importatore Honda Redmoto e vuole salutare tutti i suoi fans in Italia Justin, hai avuto l'Italia e cosa puoi dire ai suoi fans qui in Italia? Sì, siamo qui a Redmoto, ho avuto vedere le fattorie e le biciclette, è davvero bello e sono molto attenzionato per Genoa, questa supercross race, non sono qui in circa due anni quindi sono molto attenzionato per me, i suoi fans, mi piace qui, mi piace l'Italia è uno dei miei piatti favoriti per arrivare, sono molto attenzionato per la gara e spero di fare un buon show per tutti i suoi fans e penso che sarà molto attenzionato Ok, questo è quello che potete vedere nella Supercross Genoa qui potete vedere Justin Barsia, Trey Canard e Willian, quasi completamente team Honda e ciao a tutti i suoi fans in Genoa e ciao a Justin Yeah, bam bam, ciao Ciao Sì, sì.